25 giorni per compiere 35 mila chilometri e questo il programma di solar impulse duel l'aereo solare dalle lunghe alle fotovoltaiche decollato da abu dhabi per la prima circunvallazione del globo mai sperimentato l'incredibile aereo solare ideato dallo svizzero bertrand picard è decollato questa mattina da abu dhabi mantenendo la promessa fatta nel 2009 data della presentazione ufficiale del primo prototipo dimostrare cioè che con l'energia del sole nulla è impossibile da allora ad oggi il progetto di picard e il suo copiloto andrei boschberg ha superato con successo più di una prova mostrando al mondo come un aereo solare non abbia nessun problema a volare neppure la notte a rendere il tutto possibile un lavoro tecnico ingegneristico senza pari l'aeroplano ha un'apertura all'area di 63 metri leggermente superiore a quello di un airbus a 380 il più grande aereo passeggere di linea del mondo entrambi le ali sono ricoperte da cellule fotovoltaiche mentre la parte inferiore contiene all'interno di un insieme di accumulatore litio polimero un motore di 10 hp e un elica a due pali inoltre il velivolo è pesante più o meno quanto un'auto familiare grazie a una struttura personalizzata a nido d'apa realizzato con un sandwich di fibra di carbone solare vuole mobilitare l'entusiasmo del pubblico a favore di tecnologie che permetteranno di diminuire la dipendenza dai combustibili fossili e indurre emozioni positive sull'energia rinnovabile questo che si legge nel sito web dove è presentato il progetto che per tutti i cinque mesi di volo delineerà la posizione della trasmissione audio dell'aereo in tempo reale il volo farà scala in india e cina prima di attraversare l'oceano pacifico e volare attraverso gli stati uniti e l'europa meridionale per arrivare di nuovo ad abu durante il tragitto l'aereo alimentato da 17.248 cellule solari salirà a un'altitudine che raggiungerà i 10.000 metri durante il giorno per ricaricare totalmente le sue batterie in modo da rimanere in volo anche la notte i miracoli possono essere raggiunti grazie a fondi rinnovabili come l'energia solare affermata prima della partenza piccata e noi vogliamo dimostrare di poter volare giorno e notte in un aereo senza una guccia di tarburanti musica musica